ciao a tutti amici golf project paolo battistini alessandro pizzi siamo sempre al green club lainate a tre minuti da milano ragazzi molto vicini e oggi parliamo di driver ovviamente driver project è un altro clamoroso errore anche di buoni giocatori vero sì 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 di tanti buoni giocatori parliamo del push slice quindi dalla bloccata della palla che parte a destra gira ancora più a destra e gli dici bye bye alla palla bye bye triplo bogie e ragazzi ale ce lo devi mostrare eccoci qua ragazzi dopo i video come abbiamo potuto benissimo vedere il bastone che ciò conferma anche il track man è arrivato 7 gradi dall'interno quindi molto dall'interno e il face to pat quindi il rapporto della faccia rispetto alla traiettoria ancora più aperto più tre gradi quindi una palla clamorosamente partita a destra clamorosamente girato a destra quindi l'abbiamo persa nel boschetto e alle che drill possiamo fare io ho in mente un bellissimo drill è l'anti bloccaggio drill e l'utilizziamo con una bella stecca davanti a una stick eccola qua avete visto ragazzi con quella stecca potete fare qualsiasi cosa migliorare lo swing quindi compratele quindi allora una bella stecca infilzata nel terreno drill molto semplice mi metto in posizione quello che devo pensare è di far lasciare andare le mani e toccare la stecca quindi 1 tocco la stecca con lo shaft 2 tocco la stecca 3 tocco la stecca poi mi metto davanti e faccio lo swing colpisco la palla sentendo quel movimento ve lo faccio vedere anche un attimo da nella vista laterale quindi mi metto in posizione tocco la stecca tocco la stecca poi mi metto davanti e faccio lo swing ve lo mostro eccolo quindi ragazzi metti in posizione 1 tocco lo shaft 2 tocco lo shaft 3 tocco lo shaft mi metto sulla palla e via l'hai quasi colpita le sei nato molto vicino quindi hai rilasciato le mani certo e quindi la palla è partita più dritta non è andata a destra anti bloccaggio ragazzi due gradi dall'interno faccia due gradi chiusa direi un drop perfetto quindi ne altro dirvi allora vi diciamo che se non ancora non avete messo mi piace alla nostra pagina facebook mettetelo dai e poi iscrivetevi iscrivetevi a che è quel canale youtube non costa niente iscrivete e poi se volete siete amanti delle delle foto iscrivetevi su instagram vedrete tutte le nostre foto i backstage e quant'altro quindi che dire golf project perfetto grazie